Un cordiale bentrovate a voi tutti dalla telegiornale delle Marche di TVRS. È stata condannata a 25 anni di reclusione Pavlina Mitkova, giudicata colpevole dalla Corte di Assise di Macerata di omicidio volontario nei confronti della figlia Jennifer di 6 anni uccisa a Servigliano nel gennaio del 2020. La donna era finita in carcere pochi giorni dopo la tragedia. Inizialmente si è ripotizzata la morte della piccola in seguito ad un incendio, ma l'esame autoptico ha verificato come la bimba fosse stata soffocata, forse con un cuscino, alcune ore prima del rogo. Resta l'interrogativo sul movente del delitto che le indagini non sono riuscite a chiarire. La polizia stradale di Fermo, nella tarda serata di ieri, durante il servizio di vigilanza autostradale sull'A14 nei pressi del casello di Porto San Giorgio, è riuscita ad individuare e di intercettare un auto articolato immatricolato nell'Europa dell'Est, al cui interno erano stivati quattro muletti e due scavatori ed altro materiale edile, risultati rubati. Il materiale trasportato era apparso subito di dubbia provenienza, tanto che sul posto è intervenuta anche la squadra di polizia giudiziaria della specialità che, seguito il controllo sulle banche dati della Polizia di Stato, ha consentito di accertare che i veicoli trasportati erano stati asportati e sottratti nei primi giorni di settembre da alcune imprese in Puglia e Basilicata. Il valore della merce recuperata supera i 100.000 euro, i mezzi industriali ed il veicolo su cui erano trasportati sono stati sequestrati, i due autisti sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria per ricettazione in concorso. Una 59enne ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in chiesa ieri pomeriggio presso la parrocchia Beata Vergine Maria della Rosaria a Falconara. Gli altri fedeli hanno immediatamente lanciato l'allarme con i sanitari giunti sul posto che hanno accertato subito che si era trattato di un attacco cardiaco. La donna è stata trasportata al pronto soccorso all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nulla da fare invece per una 36enne trovata cadavere nella sua abitazione a Porto d'Ascoli. Una società di costruzioni evade il fisco e la Guardia di Finanza di Fano procede al sequestro preventivo di beni e denaro per 450.000 euro. Vediamo i dettagli nel servizio di Manoli Tascocco. La Guardia di Finanza di Fano ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 450.000 euro del denaro presente nei conti correnti bancari, nonché di altri beni nella disponibilità del rappresentante legale di una ditta di costruzioni per il reato di evasione fiscale. Più nel dettaglio, nel caso specifico, a seguito di un preliminare accertamento per omesso versamento IVA. Per l'anno d'imposta 2016, eseguito da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro, è scaturita una segnalazione alla locale autorità giudiziaria che istruiva il pertinente procedimento penale per i reati tributari rilevati ed assumeva la direzione delle indagini. La misura ablatoria è stata emessa per preservare il credito erariale e dunque il sequestro ha riguardato alcune disponibilità liquide presenti su conti correnti bancari e tre unità immobiliari i cui valori hanno consentito il raggiungimento della capienza prevista. E siamo ora agli aggiornamenti sulla pandemia e purtroppo dobbiamo ancora registrare un decesso da covid. Si tratta di una 94enne di Ascoli Piceno con patologie pregresse morta presso la residenza Valdaso. I nuovi contagiati invece sono 71, di cui 21 nella provincia di Pesaro, Urbino, 20 ad Ancona, 10 a Macerate, da Ascoli Piceno, 6 a Fermo e 4 da fuori regione. Tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti sempre a livelli di guardia, esattamente a 30,57. I ricoverati complessivi sono attualmente 75, di cui 20 in terapia intensiva e 23 nei reparti semi-intensivi. Cambiamo argomento, sensazioni a pelle, prospettive per il settore calzaturiere e pelletteria marchigiano dopo gli appuntamenti milanesi e dalla vigilia di nuove sfide internazionali. È il titolo dell'incontro che si è tenuto ieri a Montegranaro. Vediamo il servizio. Ancora lontani dai livelli pre-covid, cheppure non erano così eccezionali, i calzaturieri 105 tornano dal Micam con moderato ottimismo. Nei quattro giorni di fiera milanese, in contemporanea con il Mipel, dove invece i marchigiani sono stati praticamente assenti, sono ripartiti gli ordini, si sono visti buyers dall'Europa e soprattutto il distretto fermano maceratese è salito agli onori delle cronache con l'attenzione della politica nazionale per il coinvolgimento nell'evento di apertura del ministro allo sviluppo economico Giorgetti. Così l'incontro post-fiere, organizzato a Montegranaro, ha riunito gli attori principali del calzaturiero, le istituzioni e le associazioni di categoria per fare il punto della situazione alla vigilia di nuove sfide internazionali, un'iniziativa fortemente voluta dalla Camera di Commercio Unica delle Marche. Siamo riusciti a portare a Milano la voce delle Marche e la voce del distretto fermano maceratese sulla calzatura. Oggi più che mai io penso che questo incontro è servito per dare anche dei numeri certi, delle date certe, è quello che volevamo. Un ringraziamento lo voglio fare alla Regione perché il loro momento di ascolto anche tramite la Camera di Commercio a sintesi delle associazioni di categoria ci ha dato la possibilità di poter individuare delle nuove linee. L'accordo del programma che l'assessore, il vicepresidente Carloni ha messo in campo può essere anche un'idea progettuale per far capire che oggi più che mai l'unitarità del sistema imprenditoriale può essere un valore aggiunto. Le parole dell'assessore Castelli sui nuovi fondi che arriveranno e sulla progettazione che deve essere molto attenta per favorire al massimo la possibilità del tessuto imprenditoriale, della calzatura e della moda di tornare a essere quello che era è importante. La possibilità di avere lo scavio del 30%, come ci ha detto l'assessore Castelli, anche per le aree di crisi complessa. Nelle regioni che purtroppo come la nostra sono tornate in serie B ci dà la possibilità di poter sperare di avere questa decontribuzione, di non essere più limitati dal tronto che nell'Abruzzo abbiamo questa agevolazione e qui nelle Marche in questo distretto non c'è. Poi tutte le indicazioni del Presidente Acquaroli, dal volo su Milano, il bando che hanno messo in campo per i voli Milano-Roma o quelli che saranno sono due hub importanti, Roma per quanto riguarda la centralità della politica e delle decisioni, ma Milano per la centralità economica che i nostri imprenditori devono avere e devono essere più vicini. Altra identica cosa è sulle infrastrutture materiali e immateriali che il Presidente ci ha messo in campo. Il credito con il nostro Direttore Generale Mariani, con il rifinanziamento della Legge 13, con la possibilità agli imprenditori di poter agganciare questo nuovo rinascimento imprenditoriale. Questo lo possiamo fare solo nel momento in cui abbiamo la possibilità di dare modo agli imprenditori di parlare in prima persona. Volevamo come Camera Commercio portare l'attenzione non più in una conferenza stampa in Camera Commercio di Fermo oppure qui all'Orizona o a Roglio in un'altra dimensione o in un'altra località. Volevamo portare la tematica Marche, la tematica distretto della calzatura a Milano. Oggi parliamo di distretto della calzatura e della moda, domani parleremo della meccanica, dopo domani parleremo anche del mobile o dell'acqua alimentare, però abbiamo dimostrato in questo periodo che l'Unione, l'asse Regione e Camera di Commercio è un asse molto forte che dà i risultati che oggi qui abbiamo visto. I numeri ci sono, i fondi arriveranno, dobbiamo essere bravi e intelligenti a saperli sfruttare. La pesca sostenibile che aiuta il pianeta raccogliendo plastiche e accorcia la filiera con la vendita diretta. È Chiara Meriti l'Oscar Green 2020 nella categoria sostenibilità. La sua idea imprenditoriale è stata giudicata la migliore dalla giuria del premio indetto ogni anno da col diretto i giovani in presa per dare risalto agli under 40 capaci di far sposare innovazione e tradizione. La cerimonia oggi a Roma, Palazzo Rospigliosi ad un anno di distanza, visto lo slittamento dovuto alle restrizioni Covid sul pescareccio Adriana 3 tra le banchine di Porto San Gioge e l'Adriatico. Chiara si fa quindi custode del mare. Il gruppo Giometti Cinema, che è tornato a gestire direttamente i suoi cinema nelle Marche, continua l'operazione di riapertura delle Multisale. Dopo aver aperto le porte del Multiplex ad Ancona-Baracola, Iesi, Pesaro, Porto Sant'Elpidio, Tolentino e Matelica, domani ripartirà anche quello di Fano. Il Multiplex può contare su sei sale per una capienza totale di 1.212 spettatori. Oggi a San Benedetto del Tronto la cerimonia di inaugurazione della ventesima edizione del Master Universitario di secondo livello di Unicam, manager di dipartimenti farmaceutici. L'intervista di Manolita Scocco. Professore, innanzitutto l'orgoglio per essere arrivati a 20 anni di Master Universitario di secondo livello, manager di dipartimenti farmaceutici, con tutto quello anche che è cambiato, ma c'è stata una grande intuizione 20 anni fa. Sì, sicuramente arrivare a 20 edizioni di un Master Universitario è un traguardo estremamente importante e le possibilità di offrire alla professione del farmacista ospedaliero una formazione che è in grado di rispondere continuamente alle esigenze che avvengono dal mondo sanitario e questo è stato sicuramente uno dei motivi principali che ha fatto sì che il Master arrivasse fino al ventesimo anno. Sicuramente il farmacista ospedaliero gioca un ruolo estremamente importante nel controllo della spesa dei dipartimenti farmaceutici e quindi c'è una forte necessità di un farmacista manager e proprio questo ruolo è estremamente importante all'interno delle strutture sanitarie. Il Master in questi anni ha affrontato tematiche trasversali da un punto di vista manageriale alle varie professioni sanitarie e in particolare le tematiche affrontate vanno all'organizzazione, alla gestione economico finanziaria dei dipartimenti farmaceutici, alla gestione del personale, alle tecniche di comunicazione, alla gestione manageriale del servizio farmaceutico e agli studi di farmacopidemiologia e farmacoeconomia nell'analisi e il management della spesa farmaceutica, la logistica sanitaria e poi la gestione manageriale dei dispositivi medici e diagnostici e della continuità assistenziale ospedale e territorio. Queste sono alcune delle tematiche che sono state affrontate e che verranno affrontate anche in questa edizione del Master e poi in questi 20 anni l'Università di Camerino ha fornito anche una formazione specialistica in alcuni settori monotematici, quindi in alcuni corsi di perfezionamento in ambiti specifici soprattutto fornendo delle competenze di farmacia clinica agli iscritti. Ampia pagina sportiva di oggi, capriamo con il calce con la sesta giornata di Serie C che si è disputata ieri e che ha portato in dote ben sette punti alle tre formazioni marchigiane. Ovviamente lucide la ribalta per l'Ancona Matelica di cui parleremo tra poco, ma è stato un martedì proficuo anche per la Fermana che ha colto la sua prima vittoria stagionale battendo al Recchioni 2-0 il Grosseto e dando ossigeno alla sua sfittica classifica. I Canarini sono passati in vantaggio al 33esimo del primo tempo, su azione di calcio d'angolo di Frediani c'è stato un colpo di testa di Mbaie con la palla che sul secondo l'arbitre l'assistente ha completamente superato la linea di porta per l'esultanza di tutta la squadra. Al settimo della ripresa Cognigni guadagna un calcio di punizione dalla tre quarti campo, ancora la battuta affidata a Frediani e sulle secondo palle proprio Cognigni a deviarla di testa in fondo al sacco per il raddoppio giallo-blu. La Fermana abbassa i ritmi, si copre, ginestre provvidenziale, in un paio di occasioni Riolfo con i suoi giocatori può festeggiare sotto la curva d'uomo temporaneamente, trasferita in tribuna. E l'Ancona Matelica esplosa a Pistoia, quattro gol per i biancorossi al termine di una prestazione superlativa che vi raccontiamo in questo servizio. L'Ancona Matelica ed i suoi tifosi possono sognare. Questo quanto emerso dalla gara di ieri di Pistoia, dominata dall'inizio alla fine, vinta 4-0 e sostanzialmente mai in discussione in virtù di una superiorità schiacciante e di un gioco brillante ed efficace. L'onda lunga quindi della splendida squadra dello scorso anno non si è interrotta, anzi sono cambiati molti dei protagonisti ma il refrain è lo stesso, spettacoli e risultati. Ieri sera c'era stato anche un attimo nel quale si era in vetta la classifica, poi la reggiana ha surclassato la cadarese ma poco importa, la sostanza resta ed è quello che conta. Gli orange di casa, reduci dal colpo messo a segno a Pesaro, si esauriscono nel colpo di testa di Vano dopo appena un minuto che termina di poco a lato della porta di Avella. Poi è un monologo bianco-rosso, all'ottavo il vantaggio, azione manovrata sulla destra, Rolfini mette il centro per Sereni che innesca Fagioli, con il numero 18 che insacca alle spalle di Pozzi e sblocca l'incontro, per l'esultanza dei 100 sostenitori Dorici al seguito. Qualche timida protesta al 26esimo dei paroni di casa per un presunto fallo di mano in area di Iotti che comunque aveva il braccio incollato al corpo con l'arbitro che lascia proseguire, per la Pistoiese è solo calcio d'angolo. Ripresa, l'Ancona parte subito forte, al secondo il diagonale di Iannoni non inquadra lo specchio della porta, il raddoppio arriva al quarto d'ora, Rolfini ruba palla agli avversari e nesca Fagioli che non lascia scampo al portiere toscano. Il gol annichilisce del tutto la Pistoiese e mette le ali ai ragazzi di Colavito che fanno trissa al 31esimo ancora in contropiede e stavolta con Moretti che insacca quasi con facilità dopo una volata di Sereni. Il trionfo si completa al 42esimo con Sereni che servito da Avrioni sigla il poker. Sabato arriva al del Connero Limolese per una sfida ora di altissima classifica Gianluca Colavito nel post partita. I ragazzi si stanno divertendo nel proporre gioco, comunque è un momento positivo, ce lo prendiamo, ci godiamo questa vittoria e festeggeremo stasera insieme perché rimaniamo qui a Pistoia e poi domani si pensa alla partita di sabato con Limolese. Dunque in classifica i Dorici sono attualmente al secondo posto a 13 punti ad una lunghezza della Reggiana e sabato riceveranno la rivelazione imolese di Gaetano Fontana che ha raccolto sinora 11 punti. Amarezza invece per la Vispesero che ha accarezzato a lungo a Viterbo la possibilità di una vittoria che sarebbe stata fondamentale. Rete del vantaggio dei bianco-rossi in avvio con Gucci, poi una gara di contenimento senza correre veri rischi sino al 94esimo quando l'ex Samb d'Ambrosio ha siglato il gol del definitivo 1-1. Nel prossimo turno al Benelli è in programma proprio il derby tra Vispesero e Fermana. E dopo mille traversie è partito oggi il campionato della San Benedettese con la trasferta sul campo del Trastevere. È finita 3-2 per i romani anche se i rosso-blu erano passati due volte in vantaggio con le reti di Ferretti e Cipolletta. Poi la rimonta dei padroni di casa che erano rimasti anche in inferiorità numerica. Passiamo al volley femminile. Ieri sera ad Urbino il vernissage della Megabox Vallefoglia a guerrita matricola del massimo campionato in servizio di Camilla Cataldo. Si alza il sipario sulla stagione della Megabox Vallefoglia presentatasi nella fornice di Urbino Resort, Tenuto e Santi, Giacomo e Filippo, che un anno fa fu la spinta alla consacrazione del club in Serie A1. Adesso per Capitan Cosceleva e compagne c'è la massima categoria da onorare. Rispetto per tutti, paura per nessuno potrebbe essere lo slogan delle tigri. Team agguerrito e matricola che vuole farsi valere. La squadra è ricostruita da capo a piedi, il precampionato sta per terminare e all'orizzonte, il 10 ottobre, c'è la trasferta in casa della Conegliano campione di tutto. L'obiettivo è salvarsi e poi, chissà, sognare ancora. Lo spirito è quello giusto per non farsi sorprendere, ma per essere una piacevole sorpresa. Presidente Ivano Angeli, siamo nella stessa location dell'anno scorso. Chi ha portato bene? Scaramantico? Un po' sì. Comunque speriamo che anche quest'anno porti bene, ma quest'anno più di tanto non possiamo prevedere. Quindi dalla sorte magari ci aspettiamo il giusto. Siete pronti per questo nuovo inizio? Penso che la squadra si sta lavorando bene, al meglio, per essere pronta. Quindi la prima sarà un test forse non giusto per le nostre possibilità, però il calendario ha detto questo e con onore speriamo di uscirne fuori bene da questa trasferta di Conegliano. Altri imprenditori si sono avvicinati alla vostra realtà? Ma sì, qualcuno si è avvicinato. Quest'anno con tanti sforzi, soprattutto i miei e anche gli altri sponsor locali, riusciamo a gestire questo campionato che comunque è molto impegnativo da tutti i lati. La squadra è completamente nuova. Che tipo di partenza ti aspetti, considerando che l'inizio non sarà proprio morbido? Ma bisognerà per i nervi saldi, perché l'inizio sarà molto proibitivo. Tutti sappiamo che dobbiamo andare a Conegliano ed è quindi già sdoganato, ma in realtà nessuno parla del fatto che a seconda e terza partita giocheremo con Bussassizzi e con Chieri e quindi in realtà sarà veramente un inizio in salita. Bisognerà mantenere i nervi saldi e sapere bene in mente qual è il nostro obiettivo. Quali concetti che stai facendo passare alle ragazze? Quello della mentalità, perché il gruppo è nuovo, per fortuna è un gruppo che ha una grande cultura del lavoro, è quella della fiducia. La parola in palestra è trust. L'altra parola è make the difference, perché comunque fiducia, perché le ragazze non si conoscono, iniziano ad avere fiducia l'una dell'altra e poi la voglia di fare la differenza. Il Pulse di Urbino, finora l'avete soltanto assaggiato? Siamo andati una volta e devo dire che sarà bello scoprirlo, anche perché quella volta che siamo andati il fondo tipico della Lega non c'era e quindi sarà completamente un'altra palestra quando poi sarà pronta per le partite. Eden Viaggi, storico brand pesarese nel settore del turismo, ha rinnovato per la stagione 2021-2022 la sponsorship con la Victoria Libertas, nata nel 1946, società cestistica centrale del panorama nazionale. La solida collaborazione fra le due realtà prosegue da oltre dieci anni e riconferma la volontà di Eden Viaggi di investire sulla città come parte integrante della comunità. Ampio servizio sabato alle 13 nel corso del primo numero di Big Basket con ospite il Presidente Ario Costa e la conduzione di Camilla Cataldo con la partecipazione di Andrea Pecchia. Vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 30 settembre. Amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà un pochino più di variabilità sull'Italia. La coda di una perturbazione in transito verso l'est Europa si farà sentire dalle nostre parti anche con un po' di vento e un calo delle temperature. Controlliamo la nuvolosità a teo sull'Italia. Da quel punto di vista nulla di eccezionale. Qualche annuvolamento sulle regioni di nord-est e poi in giornata delle nuvole si svilupperanno anche sull'Apennino e nel pomeriggio al sud. Precipitazioni che di conseguenza interesseranno all'inizio del giorno il Triveneto e l'Emilia-Romagna ma poi nel pomeriggio si formeranno degli acquazzoni nelle regioni centro-meridionali specie versante tirrenico. Quindi in definitiva ci attende un giovedì un po' più variabile. Inizialmente dicevamo con qualche piovasco al nord-est e in Emilia-Romagna. Nel pomeriggio invece Appennino e regioni meridionali specie versante tirrenico vedranno arrivare appunto degli acquazzoni dei piovaschi anche se per lo più di breve durata. Nel resto Italia ha ampie zone di sereno ma anche un pochino di vento. Si farà sentire soprattutto al nord e sull'Adriatico in quelle zone temperature in diminuzione. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo. Un'ultima notizia. Un pallone d'argento donato al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a cui è stata conferita il 27 settembre la Laura Onoris Causa dell'Ateneo di Urbino in Scienze Motorie durante una cena celebrativa a Palazzo Sabatelli a Sant'Ippolito organizzata dall'Accademia dei Marchigiani dell'Anno insieme all'Associazione Prodotti Nobili Marchigiani ed Italiani. Questo vale più del pallone d'oro nella carriera di un calciatore a scherzato Mancini. Il ricavato della serata donato alla neonata società New Baskin Iesi per avviare nell'attività di Baskin, sport di squadra composto da disabili e normodotati. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione.